Nel primo tempo abbiamo fatto poco di quello che volevamo, eravamo più concentrati tatticamente e magari quei 35 punti appena segnati nel primo tempo dell'avversario erano frutto di certe cose che volevamo fare ma facendoli con poca intensità e con 10 palle perse nel primo tempo certamente i parametri erano chiari, dobbiamo alzare l'intensità e penso che nel secondo tempo è stato tutto un crescendo recuperando già nei 10 minuti quello che avversario ha fatto nei primi 20 per chiudere definitivamente nell'ultimo quarto e finire con entranti di persone che nel secondo tempo abbiamo fatto 28 rimbalzi su 14 che abbiamo trovato tutti i puliti che volevamo, abbiamo diminuito da 10 a 5 le palle perse perciò tutto quello che volevamo nel palintervallo è stato fatto alla perfezione con contributo di tutti quanti che sono andati in campo a merito di tutti quanti che nel secondo tempo alla perfezione hanno applicato il bisogno che avevamo grazie